Noi siamo così. Crediamo nella sostenibilità, crediamo nella lealtà, nella trasparenza di chi gioca pulito mettendocela tutta, per guadagnarsi il rispetto sul campo, quello dei propri tifosi e anche quello degli avversari, perché crediamo sia l'unico modo di ottenere risultati che restano nel tempo. Noi siamo così. Per questo abbiamo scelto di giocare con chi da sempre, su questi stessi valori, ha costruito una grande storia. Con chi come noi ha un progetto che guarda dritto al futuro. Noi siamo così. Crediamo che i grandi obiettivi si raggiungano giocando di squadra. Credì Agricola e Football Club Internazionale Milano. Play Fair.